Sono nati a Battipaglia due bambini da mamme contagiati dal Covid-19. Si trovano in terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Adesso i neonati dovranno essere sottoposti al tampone e sorvegliati dai camici bianchi del presidio della Piana del Sele. Il problema era nel fatto che ostetrici e ginecologia, diretti dal primario Gennaro Auriem, erano off-limits dall'unidiscorso. Ma quando sono arrivate le due donne senza dosi di vaccino ed entrambe positive ed asintomatiche hanno proceduto a far nascere i bimbi. Addirittura una delle due non sapeva di essere positiva. La seconda invece non è andata al Policlinico Federico II, sorraccarico, hub delle gravidanze Covid, nemmeno quando il posto letto per lei si era liberato. E quindi sono scattati i tamponi sui camici bianchi. In meno di 24 ore i medici del polo nascite di Battipaglia hanno dovuto chiudere le porte alle altre partoriente costrette a ricorrere alle cure di ostetriche e ginecologi di altri ospedali. Ieri le due mamme sono state dimesse ed aspettano i piccoli. Un plauso ai medici di Battipaglia che non si sono tirati indietro di fronte all'emergenza, ma i due parti hanno messo a dura prova un reparto da oltre 2.000 nascite l'anno che ha dovuto gestire in emergenza le gravidanze Covid-19. Infatti hanno una sola stanza di isolamento con due letti. Questo caso ovviamente fa accendere i riflettori su un polo nascite Covid-19 anche nel Serenitano con tanto di attrezzatura proprio per fronteggiare a queste evenienze. L'Ausa Salerno è stata sollecitata su questo aspetto anche dai camici bianchi del Santa Maria della Speranza di Battipaglia.